salve a tutti da enjoy viaticus vicino alla fermata della metropolitana in avenida de magio 825 troviamo uno dei simboli della città il caffè per eccellenza il più antico di buenos aires caffè tortoni come si legge orgogliosamente sposta la targa che è aperto dal 1858 anche se prima si trovava altrove ed è stato poi ubicato qui soltanto dal 1880 c'è sempre tantissima fila è un luogo molto rinomato una via bellissima questo viale avenida de magio ed è un luogo particolare ricco di storia perché qui si fermano personaggi di grandissimo interesse da re juan carlos di spagna ad albert einstein da manuel fangio il pilota di formula 1 a borghese federico garcia lorca e tanti tanti altri ancora quindi una visita al caffè tortoni imperdibile noi di gioviaticus abbiamo accompagnato anche qui è molto facile arrivare è una zona abbastanza centrale e siamo a vostra disposizione per darvi informazioni su qualsiasi altro luogo del mondo e sulle attrazioni che ogni destinazione presenta l'importante scegliere il viaggio su misura quello che fa per voi e noi di gioviaticus siamo qui per questo seguiteci in radio su radio svolta trasmissione sogni in valigia seguite i nostri video su youtube e poi sul nostro sito inter internet su facebook instagram e dovunque vogliate enjoy viaticus a vostra disposizione no no Grazie.